3 3 Praticamente quando sputo, sputo i gormiti, sembra che sono andato a girare un video al parco dello Stelvio a dicembre. Sì, sei americano adesso, devi prendere il passaporto in mano, sbatterlo contro la camera e fare sghere, sono americano, sghere. Amore! Lo sai, è un asciugona la mamma amore, non so, è un asciugona. E' un asciugona. E in realtà non so. Sfaticati di noi e quindi ci stanno salvando la vita perché camminano nel lato opposto, vanno giù. Un osauro. Si è fermata. Anche fra tutte e due... Sto fermando, cambiando padrone. Dove è Amelia? Mi sono andato che faccio il senso. Mi faccio il senso. Bello questo. Samuel e Noni. Ma che cazzo guardi i lucchetti. Matti, stai bene? Si, sai che c'è. Matti? Un cane disperato. Andiamo amore. Vieni amore, si. Andiamo, brava. Ho dovuto mettere la conchina. Volevo farlo da solo, perché c'entrometta? Comunque mi sono portato uno zaino che pesa 30 kg con macchina fotografica e obiettivi. Arrivo sulla cima della montagna. Vabbè, comunque ho dimenticato la scheda SD. Come non si capisce bene se fa freddo o caldo, ho optato per questo abbigliamento qui. Metà freddo e metà caldo e quindi compenso. qui piacere. Qui si fa una cena per ta chiamata di triflu. Qual'è… Cleo. Ehi… Grazie a tutti